Il sesamo è un nutriente molto importante per la storia del mondo. Il tahini, che si ottiene macinando i semi di sesamo, apporta incredibili benefici al corpo umano con le sue ricche vitamine, minerali e oli di qualità. Quali sono i vantaggi del consumo di tahini? Quando e come va consumato? Esaminiamolo insieme. Puoi iscriverti gratuitamente al nostro canale prima di passare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i benefici del consumo di un cucchiaio di tahini? Tahini ha tre importanti sostanze nutritive, ferro, rame e zinco. Questi composti non solo stimolano la produzione di cellule antiossidanti, ma neutralizzano anche i radicali liberi presenti nel corpo. Aiuta il sistema immunitario a prevenire le malattie causate da batteri e virus patogeni. D'altra parte, il tahini è molto ricco di acidi grassi, che hanno funzioni importanti come l'equilibrio della quantità di zucchero nel sangue e il controllo del modo in cui viene utilizzato dall'organismo. Dopo aver consumato un cucchiaio di tahini, il tempo totale di digestione è di circa 5 a 6 ore. Durante questo periodo, viene somministrata lentamente al tessuto sanguigno e prolunga il periodo di sazietà. Con gli acidi grassi benefici del tahini, favorisce la crescita di batteri probiotici benefici nell'intestino. Le sostanze antiossidanti in esso contenute riducono al minimo i problemi della flora intestinale nel sistema digerente. Tuttavia, il tahini è la fonte di acidi grassi insaturi di altissima qualità rispetto agli oli vegetali prodotti oggi. Gli acidi grassi come omega-3 e omega-6 che contiene cooperano con gli antiossidanti e riducono molto drasticamente le malattie cardiovascolari. Migliora anche i tessuti nervosi del corpo con acidi grassi omega-6 e omega-3 sani. Inoltre, i derivati della vitamina B nel tahini aumentano l'efficienza delle cellule nei tessuti nervosi e assumono importanti responsabilità per la formazione della mielina, che garantisce la qualità delle funzioni cerebrali. D'altra parte, aumenta la qualità dell'emoglobina con il ferro e la vitamina C che contiene. Funziona per ridurre problemi come affaticamento cronico, debolezza e perdita di capelli causati dall'anemia a lungo termine. Il sesamo contiene alti livelli di zinco. Lo zinco supporta la produzione di collagene, che rinnova la pelle e la mantiene sana. Lo zinco, che mantiene la pelle attiva e flessibile, combatte gli effetti dell'invecchiamento riparando i tessuti danneggiati. Aiuta lo strato di pelle morta, che si trova nella parte superiore del tessuto cutaneo, a cambiare molto più rapidamente. Quindi, c'è qualche danno nel tahini? Prima di tutto, è un alimento ipercalorico. Se consumato in modo incontrollabile, rende difficile il controllo del peso. Inoltre, il tahini, che ha un intenso contenuto probiotico, occuperà il tubo digerente più del necessario se consumato troppo e per brevi periodi. Può causare disagio allo stomaco e all'intestino. D'altra parte, l'estratto di sesamo è tra le sostanze utilizzate dal mondo medico nella produzione di farmaci. Per questo motivo, il consumo di tahini ha il potenziale per interagire con alcuni farmaci. Se devi usare continuamente farmaci, consulta il tuo medico prima di consumare il tahini. Quindi quanto tahini dovrebbe essere consumato? Gli esperti consigliano di consumare un cucchiaio di tahini due a tre giorni a settimana, soprattutto durante le transizioni stagionali quando il metabolismo rallenta. Il sistema immunitario cala e il corpo deve adattarsi. Alla luce di queste informazioni, puoi aggiungere il tahini al tuo programma nutrizionale e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al nostro canale se non l'hai ancora fatto. Stai bene, tieniti informato.